Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Un movimento è via, mi date l'energia E poi salire su! La bo potenza è qui, si è ballati così Bo 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 sei con noi! Se c'è da fare sai, ti aiuteremo noi Muovitivi e anch'io lo farò! Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverò! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima bo potenza! Un rumore assordante Ciao amici! Che bello che siete qui! Lo state sentendo anche voi! C'è qualcosa che sta facendo un rumore terribile! E fa tremare anche il castello! E anche me! Sembra un aspirapolvere gigante! O forse è il tagliaerba più rumoroso del mondo! Dobbiamo farlo smettere subito! C'è soltanto una persona che può dirci da dove viene! Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire! Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille amici miei! Sì! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci! Dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Siamo quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima bo' potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Benvenuto, mago! Prego! Attento! Benvenuto, mago! Salve, Desi e Bo! Per tutte le tempeste del mondo, cos'è questo rumore terribile? Veramente speravamo che ce lo dicessi tu! Cosa potrebbe essere? Vediamo un po'! Ah-ha! È il russaforte! Il russaforte! Il russaforte non vuole mai giocare! Preferisce tutto il giorno dormire! Tuttavia dormire lo fa russare! È russa così forte che un ruggito di leone può sembrare! Vuoi dire che questo rumore potrebbe diventare ancora più forte? Se continua così, presto farà tremare tutto il mondo! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare il russaforte e farlo smettere di russare! Per trovare il russaforte dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte! Non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Il russaforte! Trovate quelle tre porte e troverete il russante russaforte! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna far apparire tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi correte con me! Uno, due, tre... Via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare... O camminare! Ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurando la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima bo' potenza! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Uno struzzo! Uno struzzo che suona un trombone! Non vedo l'ora di ascoltarlo! E' chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Fino ad arrivare in cielo! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in atto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E... E... Saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta dello struzzo! Coraggio! Un palco vuoto! Non c'è nessuno struzzo! Per caso vedete un'altra porta? Guarda! Eccola lì! È proprio in fondo al palco! Coraggio, andiamo! Questi struzzi non ci lasciano passare! Sembra che vogliano che facciamo qualcosa! Ma cosa? Benvenuti nell'orchestra degli struzzi! Gli struzzi amano la musica e adorano suonare! Ma vogliono qualcuno che il direttore d'orchestra sappia fare! Un direttore d'orchestra? Vuoi dire che vogliono che noi li dirigiamo? Esattamente! Per dirigere l'orchestra degli struzzi dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per agitare le braccia e dirigere questa orchestra? Un pesce che nuota? Un pipistrello che svolazza? Un cavallo che svolazza? Un pipistrello che svolazza! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per dirigere l'orchestra di struzzi dobbiamo agitare, agitare, agitare le braccia come un pipistrello! Daisy si agita così tanto che mi sta facendo vento! Ma per far suonare tutta questa orchestra abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, amici! Forza, diventiamo tutti dei pipistrelli! Siete nella vostra bozzona! Bene! Allora conto fino a tre, poi svolazzate con me! Uno... Due... Tre... Via! Agitate le braccia con grande energia! Aiutatemi a creare una bella melodia! Agitatele di qua, agitatele di là, agitate le braccia come pipistrelli, voilà! Continuate a svolazzare! Oh oh! Mi serve altra energia! Svolazzate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima bo' potenza! Coraggio, svolazziamo un altro po', amici! Ottima direzione d'orchestra, amici miei! Ora facciamo tutti un bel linchino! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo attraversato l'orchestra degli struzzi! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza amici, ballate! Forza amici, ballate! Davvero un bel ballo! Guarda, una campana! Potrebbe essere un campanello della porta! Capito? Campanello della porta! Beh, per me era divertente! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super, fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una giraffa! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E... Stampiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta della campana! Coraggio! Campane fluttuanti! Guarda quante sono! Per caso vedete l'ultima porta? Ah! Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Caspita, come facciamo a evitare tutte queste campane? Benvenuti nella torre delle campane scampananti! Ognuna di queste campane di una corda è dotata che con molta energia va attirata! Se alle campane la loro canzone fate suonare Loro vi lasceranno passare! Tirare le corde? Ma come? Sono così in alto! Per suonare le campane dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi quale animale dovremmo imitare per saltare così in alto, afferrare le corde e suonare le campane? Un verme che striscia? Un canguro che salta? O un piccolo insetto che cammina? Un canguro che salta? Ottima scelta! Sì? Per suonare le campane dobbiamo saltare, saltare, saltare come dei canguri! Guardatemi! Daisy salta proprio come un canguro! Uno, due, su! Forza, facciamo i canguri anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi saltate con me! Uno, due, tre... Via! Saltate, 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 sempre più in alto saltate! Afferrate la corda e suonate! Coraggio, saltate! Afferrate la corda e tiratela in giù! Aiutatemi a suonare queste campane di più! Oh oh! Ho poca energia! Saltate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza, brillare fate! Continuate a saltare, amici! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Saltate ancora un po', amici miei! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato la torre delle campane scampananti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici, ballate! Davvero un bel ballo! Che campanella meravigliosa! Sarà meglio portarla con noi, Desi! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il russaforte! Non è chiusa! Coraggio! È arrivata l'ora di svegliare questo russaforte! Il russaforte! Sarà anche piccolo, ma il suono che fa russando è il più potente del mondo! Oh no! Oh no! Dobbiamo trovare il modo per svegliarlo! Desi! Per favore, questo tintinio mi impedisce di pensare! Aspetta un momento! Bravo, draghetto Desi! Sei un vero genio! La campanella! Il suo tintinio lo sveglierà! Beh, diciamo che è la mia speranza! Datti da fare! Amici, state a guardare! Sveglia, sveglia, russaforte! Così va meglio! Dormire tutto il giorno non è salutare per i russaforte! Gli piace! Ho la sensazione che il nostro amico russaforte non russerà più! Riuscite a sentirlo? Questo è il suono del silenzio! È musica per le mie orecchie! Wow! Che cos'è stato? Credo che Desi si sia stancato molto nella nostra avventura di oggi! Ehi, Desi! Devi svegliarti per salutare! Ciao, ciao! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici! Siamo riusciti a svegliare il russaforte grazie a voi! Siete sempre nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muoverevi e sempre in azione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!